Allora, siamo in terra basca, una terra molto importante per la cucina mondiale. Assolutamente. Ti ha mai ispirato la cucina di queste parti? È stato un punto di riferimento per te? Mi piace molto l'idea e il pensiero del prodotto, che segue molto anche la mia filosofia, partendo da zero fino ad arrivare in cucina. Ci sono molti chef baschi che seguono questa filosofia e vado d'accordo con loro, per questa cosa. Cosa puoi dire? Ci ripiazza l'uomo al momento? Cosa state facendo? Noi siamo sempre con la testa chinata sulla stufa, lavorando, cercando di creare. La creatività non manca per il momento, finché dura andiamo avanti. Siamo molto felici di tutto e ancora una volta siamo felici di essere qua. 50 Best torna in Europa quest'anno? Sì, un po' meno chilometri da fare, meno fatica. Riusciremo a portarle in Italia? Ce ne sarebbe bisogno? Sarebbe una bella cosa, sì. Ci stavo pensando in questi giorni e bisogna che ci organizziamo, assolutamente. Secondo te il cibo e la cucina italiana di che cosa ha bisogno al momento? Sì, forse, allora, posso dire che non si è mai mangiato così bene come adesso in Italia. Forse ha proprio bisogno di una cosa del genere, una manifestazione così. È importante davvero. Grazie mille, buona serata. Ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti.